Ciao ragazzi qui VuliGio e ben ritrovati nel mio canale in questo nuovo video Oggi siamo qua ragazzi ritornati su GTA 5 online con la nuova modalità Quella là che appunto ormai non è più nuova ma prima era nuova La modalità velocità esplosiva e siamo qua ragazzi con la numero 3 Che però quella che stiamo giocando ora è la numero 1 Siamo in 6 giocatori se non mi sbaglio No 5 ok 1 è crashato durante il caricamento Perfetto promette veramente bene se già uno crasha così durante il caricamento E nulla adesso si è attivata la bomba quindi dovremmo scappare Qua stiamo guidando il camiongino dei Tacos Quindi dovremmo portare i Tacos a destinazione E il difensore dovrà proteggere i Tacos Forse che li porteremo in consegna Attenzione arrivano da dietro No mi è caduta l'insegna Non sono più Tacos originali ragazzi Mi è caduta l'insegna quindi adesso saranno Tacos fasulli Quindi niente Allora tutto sommato stiamo andando molto bene Nonostante Cioè qua ci sono gli aggressori che Il difensore praticamente non riesce a fare nulla Attenzione che curva è Ragazzi Io taglio di qua io taglio nel giardino Ciao ciao Non sto badendo tanto alla velocità ragazzi Sto facendo tutto puramente a caso Quindi non lo so se riesco Oh cavolo oh cavolo non mi tambonare Che ormai mancano un chilometro Grazie fammi girare Guardali che mi aiutano nella sterzata Guardali grazie grazie Altra curva da fare qua Oh 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 No 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 mi hanno bloccato Dai retro 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 Immediatamente Immediatamente Non ce la fa Ma va a cacare Dai non ci credo Ragazzi non ce la faceva Il retro marcia non riusciva a superare la velocità Per appunto soddispare la La cosa lì La barretta della velocità Cioè In genere tutti i furgoni ce la fanno Ma questo qui no E niente abbiamo perso Quindi adesso vediamo il prossimo round Ok ed eccoci qui nel secondo round Adesso quello là Siamo gli aggressori Ma adesso Quello là con i Tacos Non concluderà Neanche se mi paga Non conclude ragazzi Lo butto fuori In una maniera assurda Ma dove cavolo sono andato? Ma ragazzi Dove sono andato? Ma mi Che Perché? Allora il furgongino dei Tacos È là davanti E lo stanno attaccando Abbastanza parecchio Vedo Però dove va? Dove va? Va sui binari? Oh il tram ragazzi Il tram Dai che lo faccio sbandare In una maniera assurda Boom No non è Non Niente Come se Non l'avessi colpito Guarda Ragazzi qui vicino Mi sembra che c'era il traguardo Perché io ero arrivato qua E mi diceva che ci mancava poco Dai che lo sto attaccando Dai che ti faccio andare fuori Dai 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 vai 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 che perdi Vai che perdi Distruggiamolo ragazzi Forza Tutti sopra Niente Proprio Non li riusciamo a fermare Sono veramente Indistruttibili Dai 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 Che ti faccio sbandare No 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 Quello della mia squadra Mi fa sbandare a me ragazzi Ma qui come si fa a vingere Con una squadra del genere Dai Prende sempre velocità Dai che ti fermo Ti fermo Ok l'ho fatto esplodere Sono morto What the fuck Ah round di vingitore Però è esploso Cioè sono morto Con l'esplosione del camion Epico Non mi era mai successo E comunque dai Tutto sommato L'abbiamo fermata Adesso sono curioso Di vedere cosa farò Nel prossimo round Ok Qua sono Il difensore Quindi Spero di fare Un ottimo lavoro Perché veramente Da difensore Non sono Il meglio Assolutamente Quindi Non lo so Cioè spero di fare il meglio Tu corri vai Vai che ti do una mano Corri vola Sì ma ragazzi Io qua adesso mi preoccupo Perché Sono da solo Contro tre E la cosa è preoccupante Non ho neanche un compagno Ma cosa fa Ragazzi Ma che cazzo fa Questo camiongino Cioè No Non lo so Veramente Perché Perché ti deve andare A schiandare sui bidoni Ah attenzione Guarda Dove ti mando via Ti mando totali Attenzione Mi sa che questo qui Non è che sia il massimo A guidare il camiongino E infatti Cioè no 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 Dai ci penso No mi hanno buttato il palo Oh cavolo Oh cavolo Cos'è sta cosa Via 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 Scappa Mamma Ma che cosa sta succedendo Non lo so Cioè le persone si rialzano Tutto che lagga È assurdo Quello va in retro E mi becca pure E lagga È incredibile Dai 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 Che si stanno imballando Col traffico Dai vai 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 a concludere Con quel camiongino Non dischi andare Con il traffico Però eh Oh cavolo A questo qui Lo dobbiamo mandare Assolutamente fuori A questo qui Ok si schiava Mamma mia Si eliminano da soli Ragazzi Ma dove va Ma ragazzi Ma perché Ed eccoci qui Nel quarto round Questo qui dovrebbe essere L'ultimo round Credo Perché Appunto A quello lì E purtroppo È esploso Ragazzi Cioè Io da difensore Faccio veramente Ma veramente Schifo Ed eccolo qua Dove vado Troppo veloce Dai 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 Ma cos'è sta cosa Lui gira di qua Io lo so Io lo so Boom Dai 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 Ok guardalo Come lo fa Sbandare Mamma mia Boom Praticamente Sei ingastrato Non Dove vai da qua Dove vai Dove vai Dove vai Ti ho chiuso Ti ho chiuso Ti ho chiuso Male Sei bloccato Devi esplodere Obbligatoriamente Mamma mia Ragazzi Che tattiche Partita vingitore Cioè Tattiche assurde L'ho praticamente Ingastrato Al muro E l'ho devastato Quindi ragazzi Che dirvi Fatemi sapere Se il video vi è piaciuto Lasciando un bel like Inoltre Fatemi sapere Se volete Altri video Su questa modalità Perché è veramente Ragazzi È stupenda Quindi Con un commento E un like Fatemi sapere Se volete Altri video Su questa modalità Se volete Bazzare dalla pagina Di facebook La trovate in descrizione Iscrivetevi al canale Per i nuovi video Qua da voi L'ho già tutto Bella raga Dai che ce la puoi fare See you Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti